Ci sono una serie di news e ci sono anche dei grafici molto interessanti oggi su Bitcoin. Vi faccio vedere già subito questo, il grafico di analisi ciclica che andremo a guardare oggi, ma anche questo è un grafico, grafico di lungo, 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 lunghissimo periodo che riguarda Bitcoin, perché è un grafico addirittura annuale. Alcuni livelli sono stati toccati su questo grafico perché sono dei livelli che abbiamo disegnato niente di meno che a gennaio del 2023. E ci sono anche, ragazzi, nel video di oggi tante, tante news da andare a vedere perché veramente alcune sono interessantissime, soprattutto questa di Mongox che in pratica trasferisce i suoi Bitcoin perché inizia quello che è sostanzialmente la fase di distribuzione e pagamento delle quote dell'exchange fallito che si presume possono essere vendute anche a mercato perché i Bitcoin, quando avvenne il fallimento di Mongox, valevano 450 dollari l'uno. Quindi è stata una specie di, praticamente, forzatura alla far mantenere gli investitori Bitcoin in portafoglio, beati loro, oserei dire, che ora si trovano per ogni Bitcoin in una plusvalenza di circa 68.000 dollari al momento. Una cifra enorme. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono in una location completamente diversa perché stiamo lavorando con una serie di persone e altri amici a delle news, delle novità che vi farò sapere veramente a brevissimo e sono molto molto belle, stratosferiche e soprattutto interessano proprio voi, interessano tutta la community italiana dei trader, degli investitori, sia crypto che normali e sono delle news veramente, ragazzi, spettacolari. Un progetto dal quale sto lavorando da qualche mese e siamo qui a scrivere le ultime cose, scrivere gli ultimi script, eccetera. Sono tra l'altro in un bosco meraviglioso, una roba, ragazzi, cioè veramente non si sente un filo di rumore. Allora, andiamo a noi per quanto riguarda la questione delle news. Prima cosa di cui volevo parlarvi proprio oggi è la questione delle news importanti. Intanto dal sito tradingonragazzi.it trovate una serie di news e le pubblichiamo anche sul canale Telegram, quindi lascio sempre il link in descrizione, tutto gratuito, li trovate una serie di news, quelle che sono più importanti e che possono in effetti avere un impatto importante anche sul mercato delle crypto e sulle oscillazioni e le quotazioni dei prezzi. Allora, la prima news di oggi che andiamo a vedere, che è veramente interessante, è questa, l'ETF di Bitcoin. BlackRock supera Grayscale, quindi dopo il turnover dei Bitcoin che in pratica sono andati a defluire da Grayscale per la questione molto semplice, cioè il costo eccessivo in termini di fee rispetto a quello di BlackRock, sono confluite in BlackRock e questo è il risultato. Linea rossa Grayscale che riduce tutto l'asset under management dei suoi Bitcoin e BlackRock che li aumenta e qui questo è il punto di intersezione, cioè il punto in cui BlackRock diventa il primo detentore di Bitcoin sotto forma di ETF superando Grayscale. Questa cosa è avvenuta, se vi ricordate, tanto tempo fa ne avevamo parlato, perché il costo di la management fee del ETF di Grayscale era un punto e mezzo, che è altissimo per un exchange, sia per Bitcoin e volatile, però a prescindere da questo è veramente altissimo. E a parte questo, ovviamente non hanno voluto ridurlo questo costo, perché? Perché ragazzi, BlackRock c'è lo 0,25% di costo, immaginate cosa vuol dire per un emittente di un ETF avere una commissione su questi importi di miliardi di dollari del 1,5% contro lo 0,25%, cioè un punto e 25% in più vale veramente tanti soldi, quindi a Grayscale non conviene, fin tanto che le cose restino stabili per una serie di motivi che sono anche quelli legati all'impossibilità magari di alcuni di poter andare a vendere, perché devono in quel caso andare a pagare la tassazione ovviamente della plusvalenza, di compiere magari di più, mantenerli così come sono, pagando una commissione maggiore. E Grayscale specula su questa cosa, ne avevamo parlato all'inizio di gennaio, quando è stata approvata la questione dell'ETF, fatto sta che il gioco che avevamo previsto già da allora, ma questa era una previsione che si poteva fare in maniera molto semplice, è avvenuto, cioè il deflusso da Grayscale che si è andato a posizionare su i bit di BlackRock. Vi faccio capire anche un'altra cosa che è veramente interessante, cioè il fatto che su Grayscale la fuoriuscita di Bitcoin in realtà sia un po' stabilizzata, perché è venuta a meno un po' la curva ripita di discendente, mentre qui appunto siamo su uno stabilità, oserei dire. Mentre quello di BlackRock è salito molto ovviamente nella parte iniziale e adesso sembra essere anche abbastanza stabile. Va bene, ma altre questioni, quella legata all'ETF di Ethereum. È possibile avere, diciamo, una questione legata all'ETF di Ethereum che si può, diciamo, indirizzarsi verso un altro dubbio, cioè l'ETF di Grayscale, di Ethereum, può essere fonte di un dump di ETH quando gli ETF andranno ad essere quotati perché avverrà la stessa identica cosa, cioè in pratica questo meccanismo che abbiamo visto qui, questo legato alla diminuzione dell'ETF di Bitcoin, potrebbe avvenire anche sull'ETF di ETH una volta approvato. Questo in pratica lancerebbe un dump di Ethereum dopo l'apertura degli ETF così come è avvenuto su Bitcoin e questo è un dubbio che è lecito porsi. Se non che ci sono stati dei calcoli che Caico ha fatto per quanto riguarda il deflusso giornaliano, intanto l'ETF di Grayscale non è molto grosso, sono mi pare 10 miliardi circa, quindi non è la stessa cosa di quello di Bitcoin. E' anche vero che la market cap di Ethereum è leggermente diversa da quello di Bitcoin, però comunque 10 miliardi in toto di quell'ETF circa non sono una grande cifra. Sennò che poi Caico ha fatto proprio il calcolo di quello che dovrebbe essere il deflusso medio giornaliero da parte di Grayscale che sono 110 milioni di dollari al giorno. 110 milioni di dollari al giorno non è che sono una bazzecola e non è che non possono impattare il prezzo di Ethereum. Ecco, vedete qui, quindi nel primo mese successivo alla conversione, GBTC ha visto depulire il 23% del suo patrimonio, quindi 6 miliardi di dollari sono fuoriusciti da quello di Bitcoin, quindi insomma 6 miliardi di dollari da un ETF su Ethereum si sentono ragazzi, però l'ETF di Grayscale su Ethereum attualmente, vedete, è 11 miliardi circa, quindi se dovesse registrare deplussi simili a quello di Bitcoin si potrebbero verificare dei deplussi medi giornalieri di 110 milioni di dollari pari a circa il 30% del volume medio giornaliero di scambi di Ethereum su Coinbase, come dichiarato da Caico. Allora, 30% del volume di scambio su Coinbase può muovere Ethereum sì o no? Allora, la risposta è molto semplice, muovere lo può muovere, soprattutto se vengono effettuati in maniera un po' così alla buona, quindi senza attese particolari, soprattutto se enfatizzano dei momenti particolari nel mercato che magari potrebbe essere già debole e vanno a enfatizzare rompendo alcuni livelli di supporto, attivando liquidazioni delle posizioni long e quant'altro. Però c'è anche da dire che se venisse compensato dagli acquisti magari sull'ETF di BlackRock o gli altri ETF che sono stati approvati, allora a quel punto questi 110 milioni potrebbero essere smorzati e magari avere un impatto non così importante. Io qui però vi pongo un dubbio, che è lo stesso che vi ho tirato fuori quando a gennaio abbiamo parlato della questione di Bitcoin. Se immaginate di essere degli acquirenti di Bitcoin che volete comprare l'ETF, a questo punto decidete di acquistarlo e sapete che Grayscale probabilmente avrà un deflusso giornaliero di 110 milioni, cioè in pratica ci saranno 110 milioni di vendite al giorno. La domanda è molto semplice, voi lo comprate subito l'ETF oppure qualche giorno dite ma io aspetto perché questi fanno il deflusso quindi non mi conviene comprare magari adesso. Ecco, allora la domanda è che questa cosa un po' la ragionano tutti gli investitori a prescindere, in media ovviamente non tutti quanti e probabilmente potrebbe frenare la domanda nei primissimi giorni quindi potremmo in effetti assistere a un dump di Ethereum o magari non sostanzioso come quello di Bitcoin perché le cifre non sono grandi però sapete come funzionano i mercati, da cosa nasce cosa se dovessero attivarsi una serie di spirali negativi comprese le liquidazioni dei livelli di supporto, delle posizioni long la cosa potrebbe diventare pesantina. L'unica cosa certa che sappiamo tra virgolette è che probabilmente avverrà questo tipo di deflusso e questo spinge gli eventuali investitori ad attendere magari qualche giorno. Attenzione però perché poi si innesca il principio contrario sappiamo che quello è semplicemente un'attesa di un buy che sta arrivando quindi probabilmente molti entreranno prima magari di una fase di crash e questo attutirà molto il colpo. Secondo me infatti la fluttuazione potrebbe essere inferiore a quella di Bitcoin. Ultima news e poi andiamo alla ciclica ragazzi cioè quella legata alla questione di Mongox che ripaga i creditori e questo potrebbe provocare il calo dei prezzi di Bitcoin perché dopo dieci anni dalla bancarotta si sono liberati e sono stati trasferiti 7 miliardi di dollari in Bitcoin pari a 107 Bitcoin. Questa mossa segna la prima attività significativa dai wallet di Mongox in più di cinque anni. Tra le altre cose questo è il dato più importante cui dovete prestare attenzione. Secondo gli analisti il trasferimento di Bitcoin è finalizzato a preparare i pagamenti ai creditori entro il 31 ottobre del 2024. Una data stabilita per la chiusura definitiva del processo di restituzione quindi devono avvenire questo tipo di in pratica restituzioni. Allora cosa comporta questa cosa? Beh ragazzi 7 miliardi restituiti sono una cifrona. Ora la questione è molti di quegli investitori hanno un gain incalcolabile perché il prezzo medio di Bitcoin era 450 dollari l'uno rispetto ai 69 attuali. Questo significa che probabilmente si dovesse verificare una massiccia vendita le cose non si metterebbero tanto bene perciò un po' lo spettro Mongox esiste e un eccesso di offerta potrebbe assolutamente arrivare. È anche vero che probabilmente gli ETF potranno anche aspettare quel momento per fare incetta di Bitcoin perché esiste una super balena diciamo così formata da tutti questi creditori che ha a questo punto tanti tanti miliardi di Bitcoin da poter vendere e questo è ghiotto per chi vuole comprarne senza manipolare molto il prezzo. In sostanza da una parte probabilmente assisteremo a qualche dump e dall'altra magari assorbimento da parte degli ETF che in quel caso potrebbero essere interessati a un'operazione del genere. La notizia del trasferimento di Mongox ha causato una reazione immediata del mercato con il calo del 4% di Bitcoin che è arrivato poi intorno ai 67 mila dollari circa. Questi timori ragazzi esistono però io che sono su questo mercato veramente da tanti anni vi dico che esistono veramente da tanto tanto tantissimo tempo. Non sappiamo ancora come effettivamente sarà gestita questa fase di vendita dobbiamo avere informazioni maggiori fatto sta che un po' la preoccupazione assolutamente ci sta non tanto per la liquidità che vi ricordo si libera anche tanta liquidità 7 miliardi di liquidità in più 7 miliardi di Bitcoin in più non in numero ma in valore dollaro e questo aumenta la liquidità dei mercati che è un bene perché aumentare la liquidità dei mercati vuol dire ridurre la volatilità e stabilizzare di più il mercato. 7 miliardi non sono gran cifra per Bitcoin ma non sono neanche bruscolini diciamo così perciò ben vengano anche queste cose però ovviamente sapendo che in media l'hanno comprato intorno ai 400 dollari ragazzi vi faccio vedere questi dati sono sbalorditivi veramente qui trovate tutta la storia di Mongox e andatevela a leggere insomma sul sito veramente scioccante questo tipo di questione. allora buttata via la questione di Mongox che aspettiamo veramente ormai da anni noi che siamo veterani di questo settore festeggiamo ok quindi vai di Negroni per tutti e Spritz per tutti allora andiamo a vedere la questione legata all'analisi ciclica di Bitcoin di cui vi ho già parlato anche nelle precedenti nei precedenti video analisi ma che è molto importante secondo me in questa fase la struttura ciclica di Bitcoin è molto molto chiara in questo momento Bitcoin sta cercando la clause del suo ciclo mensile questa clause del ciclo mensile è assodata è tranquilla e non è un vero problema perché questo livello da cui è partita questa fase cioè il minimo di maggio rappresenta un nuovo ciclo di natura trimestrale almeno almeno trimestrale può essere anche un semestrale nel momento in cui è iniziato un nuovo ciclo trimestrale significa che dalla chiusura di questo mensile noi dovremmo avere ancora altri 60 giorni 60 magari no ma 50 60 giorni di possibile oscillazione anche nella prima parte rialzista del mercato in pratica c'è tanto tempo per poter tentare l'attacco ai massimi storici di Bitcoin quindi non mi stupirebbe se dopo la chiusura di questa fase io andassi a vedere magari Bitcoin salire nel tentativo di rompere questo livello di pricing tra le altre cose c'è anche la questione legata alla figura di inversione che si sta andando a creare o un testa a spalle oppure come diceva qualcuno di voi in un commento che mi avevate lasciato la famosa tazza col manico che è questo qui che sembrerebbe sia insomma in fase di creazione questi tipi di pattern sono essenzialmente dei pattern che sono tutti di continuazione del trend a rialzo ora tralasciando il concetto che il pattern è una figurazione che dimostra un atteggiamento di mercato quindi non è il pattern che muove il mercato è semplicemente una fotografia di quello che il mercato sta facendo quindi noi dobbiamo capire che cosa sta facendo il mercato non guardare la disegnino immaginandocelo magari e dire ok il mercato sta facendo il disegnino non è quello che muove il mercato bensì è l'atteggiamento logico che ci sta dietro ed è veramente interessante cioè l'atteggiamento è quello in cui bitcoin ha provato a scendere dai massimi ha ritestato i suoi massimi storici ha fatto una figura di inversione che vi faccio vedere anche qui e questa qui è una figura di inversione anche abbastanza forte perché qui abbiamo fatto un down un tentativo di rompere i massimi il breakout dei minimi e il nuovo minimo e poi l'ha recuperato questo recupero ha tolto forza a questa figura di inversione che era molto pericolosa anche perché aveva toccato livelli importanti e ha ripristinato una barra di congestione nonché la forza di bitcoin stesso questo significa che se dovessemo andare dopo magari una fase di chiusura nuovamente all'attacco di questo livello solo se dovessimo andare nuovamente all'attacco di questo livello probabilmente avremmo veramente la possibilità di romperlo quel livello perché semplicemente il mercato a quel punto sconterebbe forza e questo il concetto che c'è dietro è molto semplice comunque da un punto di vista di analisi ciclica siamo in questa fase di chiusura del mensile e io mi aspetto che la ripresa dalla chiusura di questo ciclo mensile possa in effetti tentare proprio il breakout dei massimi poi lo vedremo nei prossimi giorni comunque 28 giorni sono ancora pochi servirebbero almeno altri giorni fino alla fine della settimana barra lunedì per chiudere questa fase e teoricamente teoricamente questa struttura di minimo dovrebbe essere breccata con un ribasso che potrebbe a quel punto arrivare intorno ad aria 65 66 mila dollari non mi aspetto grandi sciacquoni poi sapete come sono i mercati e bitcoin ci hanno abituato a cose assurde adesso da qui poi andiamo a fare una roba del genere tutto è possibile però in realtà per come è strutturato questo tipo di di mensile me lo aspetto così faccio vedere il grafico lineare grafico bellissimo dove il minimo si sta creando proprio nella giornata di oggi e questo come si dice basta e avanza per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video vi ricordo che dalla giornata di domani pomeriggio sul tardi e poi venerdì sarò a Roma la blockchain week rom quindi per chi di voi dovesse esserci ci vediamo lì e poi ci vedremo anche la sera che abbiamo diciamo una serie di aperitivi sparsi in giro così ci facciamo una chiacchierata ci incontriamo e come sempre facciamo ogni anno per oggi è tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao 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 ciao